Per esempio questo qua è un ottimo momento, cerchiamo di aspettare il prossimo momento come questo per strambare Ok, quando sentite proprio che sulla barca c'è la massima velocità, appoggio un pelino, vai, ora! Perfetto, su spi, gonfio spi Veloci col tangone però, inquadrare, inquadrare, Giulia, inquadrare Spi, gonfio, allora! Inquadrare Oh, adesso la manovra è...